salve e benvenuti ad una nuova puntata di dotner podcast il primo podcast italiano dedicato alle tecnologie microsoft e non solo con questa puntata torniamo a parlare di cervelli it in fuga una serie che avevamo cominciato già qualche anno fa e che poi per qualche tempo abbiamo interrotto adesso riprenderemo vista anche la situazione di diciamo di lockdown e tanti amici che sono all'estero per lavoro o per diciamo perché hanno cambiato proprio stile di vita a intervistare persone che sono appunto hanno fatto questa decisione di lasciare hanno preso questa decisione di lasciare l'italia e trasferirsi all'estero oggi abbiamo un caro amico che si è trasferito dalla toscana pensate un po ha lasciato la toscana per trasferirsi ad hong kong un caro benvenuto a david e benvenuto ciao davide come stai ciao a tutti ciao a tutti io bene bene dai te è tutto bene siamo qua in attesa del periodo natalizio con lockdown diciamo con covid penso anche da voi ci sia un po questo problema no sì sì decisamente decisamente dobbiamo aspettare che si risolva intanto allora per chi non ti conoscesse facciamo un attimo una diciamo una piccola bio di chi sei in posizione così per presentarti ok ciao a tutti io sono sono davide più di qualcuno probabilmente mi conosce perché prima di trasferirmi ero abbastanza attivo nella scena community italiana con .net toscana principalmente ma comunque sono sono stato un mvp di microsoft mvp per la parte di application lifecycle management sono in realtà mi sono trasferito ancora dalla toscana ma io sono nativo di trieste quindi anche l'accento probabilmente un po si sente ho lavorato in italia per alcuni anni magari ne possiamo parlare dopo e poi ho deciso di trasferirmi qui qualche anno fa per tentare la fortuna e devo dire che per il momento mi stanno andando abbastanza bene adesso adesso diciamo la fortuna a parte tu sei una persona in gamba perché diciamo anche con l'esperienza che avevi ti sei trasferito tu lavoravi in italia lavoravi mi pare in in aruba si prima di trasferirmi io lavoravo lavoravo in aruba nella sede centrale in toscana prima ancora poi ho avuto altre esperienze perché avevo un'azienda mia prima dell'azienda mia poi lavoravo nel in seal si chiama l'azienda regionale di informatica del frio di venenza giulia quindi ho passato diverse diverse realtà piccole medio piccole relativamente grandi prima di poi di spostarmi qui gli avevi comunque un bel po di esperienze non è che non eri cioè ti sei andato a ti sei spostato ma ovviamente diciamo non eri un junior quindi sono molte esperienze voglio dire senti quanti anni fa hai deciso di lasciare l'italia io io mi sono trasferito qui a maggio 2015 quindi sono poco più di cinque anni ok il motivo che ti ha fatto decide ad un certo punto basta vado via diciamo che all'epoca io di Hong Kong quasi non avevo sentito parlare sapevo che esistesse da qualche parte nel mondo quindi diciamo che non era al momento non era la mia destinazione ufficiale ma volevo volevo cercare qualcosa di un po più strutturato o comunque di diverso dalla realtà italiana ovviamente all'epoca cercavo qualcosa in Europa perché come come sanno tutti per noi è molto più facile non c'è problema di visti vai e trovi lavoro volevo volevo cambiare perché la realtà italiana la realtà lavorativa italiana in campo in campo haiti mi stava cominciando a stare un po stretta per cui volevo volevo fare qualcosa di diverso qualcosa di di più stimolante e anche perché poi come probabilmente tutti sappiamo per quanto riguarda l'IT in Italia a livello salariale al di là di tutte le altre problematiche ma anche a livello salariale diciamo si potrebbe fare meglio per cui volevo cercare di capire se andando all'estero potevano esserci possibilità di carriera ma anche salariali ma anche di esperienze diverse ok quindi hai deciso di andare a Hong Kong per un motivo specifico perché no è capitato nel senso che all'epoca è una storia un po strana ma all'epoca come dicevo stavo cercando qualcosa in Europa e l'ho detto siccome mio zio si era trasferito ad Hong Kong un paio d'anni prima e quindi era un tipo due anni che non lo vedevo ho detto vabbè faccio le ferie vado a trovare mio zio ma solamente dal punto di vista faccio le ferie niente di più e poi quando torno in Italia mi applico e cerco un lavoro in Europa ma quando sono arrivato qui a Hong Kong mi sono letteralmente innamorato del di questa città del dell'energia che questa città ha e di tutto tutto quello che c'è che ci gira che ci gira attorno quindi ho pensato questo potrebbe essere un posto in cui potersi trasferire ovviamente non è che sono arrivato e mi sono mi sono formato qui sono tornato in Italia dopo fatte le ferie e ci sono voluti circa ora non ricordo esattamente ma credo sette dai sette ai nove mesi per poi organizzare tutto trovare lavoro cercare di capire se effettivamente c'erano delle possibilità di spostarsi qui ad Hong Kong e poi in maggio 2015 come ho detto mi sono mi sono trasferito quindi è stato tra virgolette casuale se se mio zio inizialmente non si fosse spostato qui io non ci sarei non ci sarei mai venuto se tu andavi in Germania stavi da questo magari in Germania no perché non mi piace ma va bene il cinese non è mica tanto facile insomma la cosa buona di qui è che chiaramente la lingua ufficiale è il cinese cantonese ma la seconda lingua ufficiale è l'inglese per cui sì sì perché essendo stato chiaramente se conosci l'inglese non è un problema è un po' un problema all'inizio è stato un po' un problema capire il loro inglese perché l'inglese lo parlano ma con l'accento fortemente cinese quindi ho un aneddoto su questo perché io l'inglese lo parlavo perché anche quando stavo in Italia lavorando per Aruba io gestivo gli sviluppatori all'estero quindi l'inglese lo masticavo però quando mi sono trasferito qui di persona li capivo abbastanza ma al telefono non non c'era non c'era storia per cui io ho passato i primi il primo mese e mezzo più o meno a non rispondere al telefono perché non avevo terribile paura che io non capivo guarda ti capisco perché qualche anno fa avevo pensato di trasferirmi a Bruxelles questo è un aneddoto che ti racconto velocemente e posso posso soltanto far immaginare il terrore di quando ho parlato al telefono con un recruiter da Bruxelles arabo con l'accento francese che parlava inglese e io per telefono cercavo di capire che cosa dicevo che aveva sia il dialetto arabo c'aveva sia l'inflessione araba che quella francese mischiata con un inglese vabbè comunque ti capisco al fine senti tu hai cominciato a lavorare in un'azienda lì del posto ma poi adesso sei in Microsoft sì diciamo che ho avuto ho avuto una storia lavorativa abbastanza variegata qui nel senso che in realtà quando io mi sono trasferito qui la mia idea era quella di aprire di mettermi in proprio ed infatti ho cercato di fare quello all'inizio ma e poi magari apriremo una parentesi più tardi ma con i visti qui per se ti vuoi mettere in proprio è abbastanza un casino per cui ho avuto la fortuna di trovare un'azienda che è un'azienda anche piuttosto conosciuta qui a Hong Kong che mi ha sostanzialmente assunto e mi ha sponsorizzato il viso scusa il visto e nel frattempo ho avuto la possibilità poi di aprire l'azienda mia e lavorare in parallelo con loro e poi di cercare altri clienti qui a Hong Kong ma poi è successo che come dicevo prima io ero comunque Microsoft MVP quando mi sono trasferito qui e quello tra l'altro ha aiutato anche per il processo del visto e per altre cose e quindi diciamo Microsoft mi conosceva in Italia e quando mi sono spostato qui ho cercato di prendere contatto immediatamente con Microsoft qui a Hong Kong per cui per un motivo o per l'altro poi alla fine ho ricevuto un'offerta che era un'offerta abbastanza interessante da Microsoft Hong Kong e ho deciso di accettare quindi passiamo da l'azienda mia poi a Microsoft volevo scusami se ti ho interrotto volevo soltanto ricordare a chi ci ascolta che non lo sa cosa è un MVP è un essere strano che adora le tecnologie specialmente quelle Microsoft e che fa un sacco di lavoro extra senza che nessuno lo paghi solo perché gli piace diciamo un masochista questo lo riassume abbastanza bene diciamo l'acronimo significa most valuable professional ma il masochista vero e proprio sarebbe in realtà è un riconoscimento che Microsoft dà a professionisti indipendenti che sono in qualche modo sulle tecnologie Microsoft per cui io ero sulla parte di application life cycle management quello che ora si chiama DevOps sostanzialmente e quindi avevo questo riconoscimento e quello siccome è un riconoscimento ufficiale poi come dicevo mi ha aiutato anche per sia per ottenere il visto ma poi anche qui è una cosa che è abbastanza vista perché ce ne sono ora in questo momento ce n'è un solo MVP ad Hong Kong quando sono arrivato io se non sbaglio eravamo in tre o quattro per cui è una cosa che ti dà un certo valore io comunque ci scherzo su ma sono stato anch'io per qualche anno MVP e posso garantire che è una bellissima esperienza ed è molto bello quando Microsoft dà questo riconoscimento perché è veramente un riconoscimento che non puoi comprare non è una certificazione qualcosa che ti viene dato per meriti in quel senso lì è una bella sensazione e quindi però quando entro in Microsoft lo perdi il titolo esatto sì sì infatti io sono stato MVP per tre anni due anni e quasi tre anni diciamo poi ho dovuto scegliere di vado a lavorare in Microsoft o mi tengo l'MVP vabbè andiamo in Microsoft diciamo è stato un sacrificio abbastanza diciamo leggero diciamo così va bene comunque a parte tutto Microsoft vabbè come azienda la conosciamo ma in generale tu che ti sei spostato dall'Italia in termini di meritocrazia diciamo ambienti di lavoro valutazione del nostro lavoro perché magari tu hai visto anche che in Italia il nostro lavoro non viene sempre giustamente diciamo valorizzato ecco non viene considerato come si dovrebbe rispetto a questo rispetto all'Italia hai trovato un ambiente più positivo migliore come come in quattro altre parti del lavoro è sicuramente un ambiente diverso io quando descrivo spesso ai miei amici o gente con cui parlo che non sono italiani quando descrivo la situazione in Italia descrivo sempre come che la parte IT è vista come un costo e non come un investimento dalle aziende qui per fortuna è visto come un investimento è riconosciuto che se non vai a fare un investimento in IT poi ci perdi dal punto di vista del mercato eccetera eccetera quindi già dal punto di vista di approccio se vogliamo al mercato è un approccio differente poi sulla parte di meritocrazia ce n'è sicuramente più che in Italia a meno per quella che è la mia esperienza si potrebbe fare meglio è abbastanza c'è abbastanza politica tra virgolette anche qui per quanto riguarda poi promozioni o l'ambiente di lavoro non è non è tutto rose e fiori come si dice però dal punto di vista specialmente della meritocrazia e dell'approccio in generale ho trovato un ambiente migliore di quello che c'era in Italia o almeno di quella che era la mia esperienza in Italia senti ma invece per quanto riguarda gli stipendi sono diciamo non voglio sapere quanto guadagni dico in generale come rapporto quanto guadagni quanto interno di vita riesci a tenere è superiore all'Italia è come l'Italia questa è una domanda è una domanda difficile nel senso che io posso dirti che dal punto di vista assoluto io sto guadagnando molto di più di quello che guadagniamo in Italia però tieni presente che se guardi la classifica delle città più cari al mondo sì è costoso Hong Kong per otto volte incluso quest'anno è stata la città più più costosa al mondo che è una cosa che in realtà riflette solo parzialmente la realtà perché l'unica cosa di cui in realtà qui non puoi fare a meno è che è estremamente costosa sono gli affitti gli affitti qui sono estremamente costosi se ne parlava in casi piccolissimi ho un appartamento un appartamento che è considerato grande per gli standard di Hong Kong perché è un appartamento di circa 70 metri quadri è un appartamento enorme per Hong Kong perché se stai sull'isola di Hong Kong normalmente hai un appartamento di 30-40 metri quadri al massimo e lì ti costa probabilmente intorno ai 5.000 euro al mese 5-6.000 euro al mese in rapporto io stando a mezz'ora di traghetto dall'isola di Hong Kong su un'isola dispersa nel nulla se vogliamo con 4.000 anime io pago circa 2.000 euro al mese di affitto quindi diciamo che come affitti purtroppo quello non ci puoi fare a meno comprare una casa è una cosa che lo puoi fare solo se sei dirigente di banca per cui quello neanche non ci penso però in realtà se guardi tutto il resto dipende tanto da come vivi se tu vuoi andare a cena fuori ogni sera fai la bella vita a quel punto sì Hong Kong è una città estremamente costosa o se vuoi andare a venire qui e mangiare come mangi in Italia mozzarella pasta la salsa allora sì spendi spendi tutto e di più se però fai non dico dei sacrifici ma se ti adatti allo stile di vita di qui quindi mangi magari un po' di roba italiana ma poi mangi la roba cinese mangi diverso non vai a ballare ogni sera una roba di questo tipo in realtà tutta quella parte lì non è non è tanto costosa quindi dipende un po' ripeto da come vuoi vivere se fai una vita normale come penso di poter dire la faccio io alla fine in proporzione guadagno di più di quello che guadagniamo in Italia era questo il concetto cioè nel senso è chiaro che se esci in Tenezia e fai la bella vita ti serve veramente uno stipendio da milionario questo in tutti i paesi però è qui è molto di più qui è proprio estremizzato sì ok quindi è meglio ancora stare a casa la sera esatto poi adesso specialmente con il covid bisogna un po' stare più in famiglia senti a proposito di famiglia tu diciamo hai hai trovato un ambiente favorevole in termini anche di amicizie cioè perché una delle cose che per esempio abbiamo anche discusso con altre persone è la difficoltà un po' delle persone che fanno vanno all'estero degli expat diciamo così di trovare amicizie del posto cioè normalmente gli expat negli altri almeno nei paesi in cui abbiamo fatto chiacchiato con altri amici è più facile fare amicizia con persone che sono anche loro expat e non persone del posto è così anche per te? inizialmente sì diciamo che comunque tieni presente che a Hong Kong ora non so esattamente le percentuali ma è un posto che è estremamente multiculturale ci sono tantissime persone da tutte le parti del mondo è una delle città più multiculturali al mondo per cui inizialmente chiaramente ho avuto più amici magari inglesi piuttosto che di altre nazionalità americani eccetera non tanto cinesi anche perché sì lavoravo in un'azienda del posto ma non ho avuto grossi contatti con il resto dell'azienda per cui mi veniva più facile poi in realtà ho sviluppato amicizie anche con gente locale è un po' più difficile perché sono abbastanza chiusi è difficile entrare in confidenza con le persone del posto però quando lo fai poi non è un problema diciamo ci metti più tempo che diventare amico di un'altra persona magari europea o sudeuropea però alla fine alla fine si fa non è non è un grosso problema da quel punto di vista diciamo che penso di avere 50 e 50 come adesso adesso diciamo tu sei introdotto anche bene nell'ambiente visto che comunque insomma sei introdotto bene nell'ambiente senti una cosa che volevo chiedere dal punto di vista del diciamo dei vantaggi che hai trovato diciamo sul punto di vista fiscale come funziona? cioè le tasse sono più alte più basse rispetto all'Italia? vabbè no non c'è paragone nel senso che le tasse sono estremamente più basse funziona un po' come col sistema americano quindi tu hai tutti i soldi in busta paga e poi una volta all'anno paghi le tasse ok ma le tasse hai il massimo che se non sbaglio è al 17% poi va ovviamente a scaglioni per cui paghi il 17% solo su una parte del tuo stipendio e paghi comunque molto molto meno che in Italia l'unica cosa che ti viene trattenuta in busta paga è il 2,5% per il sistema pensionistico sostanzialmente che si chiama MPF però anche lì in realtà non è il 2,5% e meno perché poi hai un tetto limite e normalmente se hai uno stipendio da ufficio comunque il tetto lo raggiungi per cui ti viene trattenuto praticamente niente sulla busta paga e poi lo paghi paghi le tasse una volta all'anno è anche vero però che non hai grossissimi aiuti da parte dello Stato hai ovviamente la sanità pubblica e che se hai bisogno di un'emergenza o qualcosa di questo tipo è estremamente efficiente è praticamente gratis io sono stato una settimana in ospedale quando ho preso il morbillo in isolamento e se non sbaglio alla fine ho pagato tipo l'equivalente di 15 euro una roba del genere per cui è estremamente conveniente tipo il ticket esatto però se ti serve qualsiasi altra cosa e questa è una cosa da tenere in considerazione devi andare nella sanità privata che è estremamente costosa per cui o hai una buona assicurazione sanitaria che in realtà le assicurazioni sanitarie non costano tantissimo però ovviamente devi metterlo a budget se pensi di trasferirti qui quindi se hai una buona assicurazione sanitaria non hai grossi problemi altrimenti devi pagare di tasca tua e poi diventa estremamente costoso quindi diciamo rispetto all'Italia se volessimo fare un paragone che forse è azzardato non lo so adesso mi viene in mente questo diciamo l'Italia ti toglie i soldi subito dalla busta paga quindi in qualche modo ti mette un po' le mani in tasca comunque invece diciamo a Hong Kong tu hai tutti i soldi e poi sono responsabilità tua pagare quello che devi facendo tutti i conti correttamente qui c'è un po' di ballo tra prima e tre di dopo e me li restituisci la stessa cosa tra i professionisti a partita IVA insomma anticipi poi i rimborsi cioè effettivamente forse sarebbe più corretto pagare una volta solo e basta insomma senti parliamo un attimo di cose all'italiano allora il cibo noi in Italia ci lamentiamo diciamo ci vantiamo di due tre cose il clima il cibo eccetera adesso parliamo del cibo guardate diciamo cosa si mangia tu come mangi come hai affrontato questo cambio culturale insomma io vabbè qui si mangia di tutto i cinesi di Hong Kong i cinesi se poi parliamo di Cina è ovviamente un discorso completamente diverso ma qui a Hong Kong ecco a Hong Kong esatto dopo parliamo anche di Cina magari però giusto così dal volo esatto ad Hong Kong sono abbastanza fanatici del cibo quindi tu trovi sostanzialmente qualsiasi roba se vuoi andare a mangiare fuori hai tutti i tipi di ristoranti possibili immaginabili con prezzi ovviamente che vanno dal super conveniente a delle robe incredibili che spendi non so mille euro a testa e roba del genere però trovi di tutto incluso ovviamente anche il cibo cibo italiano e se parliamo di supermercati o piccoli piccoli negozi di alimentari anche lì ovviamente dipende dove vai ci sono delle catene di supermercati che hanno sostanzialmente solo roba asiatica ma poi ce ne sono altri che hanno di tutto come dicevo prima trovi dalla mozzarella magari non la mozzarella di bufala perché quella è un po' più deperibile ma la trovi anche comunque però trovi di tutto io mangio un po' un po' e un po' mi faccio la pasta ma magari mangio gli spaghetti cinesi piuttosto che il riso e così via però ripeto trovi sostanzialmente di tutto io ho scoperto vedendo qua in Italia ci sono penso un po' come in tutti i paesi del mondo tanti programmi che parlano di cibo e ho scoperto tramite uno di questi programmi che a Hong Kong ci sono molti ristoranti italiani gestiti da italiani e c'era un programma che andava proprio per i ristoranti italiani a Hong Kong a fare diciamo una specie di gara così tra chi cucinava meglio però in effetti sì ho visto che c'è molta molta diciamo varietà come gli italiani trovi di tutto i ristoranti italiani in realtà sono abbastanza costosi la maggior parte dei ristoranti italiani sono di livello medio-alto o alto però trovi anche quelli diciamo più convenienti una nota che voglio fare è sui ristoranti cinesi se tu vai a mangiare i cinesi in Italia dimentica perché quando arrivi qui io il cinese in Italia non lo mangio non mi piace mai piaciuto infatti una delle cose di cui ero un po' preoccupato quando mi sono trasferito è vabbè in qualche modo faremo in realtà il cibo cinese che si mangia qui è una roba diversa è un'altra cosa è molto buona almeno secondo me sì sì ma io immagino che sia così un po' per tutte le cose tipiche cioè se fai un ristorante cinese in Italia ovviamente viene fatto un po' all'italiana un po' come se vai in America e mangi gli spaghetti che sono scotti perché gli americani vi piacciono molli è ovvio non è la stessa cosa però diciamo si spera che almeno in un ristorante italiano c'è quindi mantenere insomma il loro ma tu quindi dal punto di vista del cibo non ti è mai mancato nulla cioè nel senso sei sempre stato tranquillo non hai avuto voglia una cosa di dire cavolo questa non la trovo qua no direi di no l'unica cosa che vada proprio di un paio di settimane fa sono diventato matto e non sono riuscito a trovare i piselli secchi volevo farlo perché mia amma Rosa non è italiana volevo farlo e provare una cosa tradizionale di Trieste la zuppa di piselli secchi qualsiasi roba impossibile trovi trovi i fagioli trovi le lenticchie trovi tutti i legumi possibili immaginabili i piselli secchi impossibile da trovare la dobbiamo mandare dall'Italia allora ci facciamo carico di mandare non è una cosa che mangio ogni giorno per cui non è che l'uomo è mancata però per dire quella volta quella volta che ti viene la voglia quella volta che li volevo non c'è stato perso senti un'altra cosa adesso abbiamo finito col cibo perché basta se no sempre questi soliti stereotipi e il clima invece com'è perché noi abbiamo sempre l'immagine dei paesi cinesi perché Hong Kong qua arriveremo anche a parlare un attimo del discorso della Cina però Hong Kong non è propriamente cinese anche se la posizione più o meno è quella dal punto di vista del clima com'è l'ambiente il clima è un clima sostanzialmente subtropicale che significa che tu hai abbastanza da abbastanza a molto caldo e il caldo inizia generalmente attorno inizio marzo e finisce novembre metà novembre e hai è abbastanza caldo perché non è non caldissimo nel senso che normalmente più di 32 33 gradi non ce li hai il problema è l'umidità l'umidità soprattutto nei mesi di da giugno a ottobre l'umidità ti ammazza stiamo parlando di dal 75 se ti va bene al 90 95 100% di umidità tutto il giorno tutta la notte per cui quindi se si rompe il condizionatore muori infatti tante volte penso come facevano qui 50 anni fa perché comunque la città esisteva la gente c'era ma i condizionatori no quindi non so come facessero a vivere qui 50 anni fa 30 gradi sono la temperatura ma poi l'advertito quella famosa temperatura avvertita con l'umidità sale poi invece per quanto riguarda l'inverno ora siamo siamo in pieno inverno siamo intorno ai 12 13 gradi generalmente non va più più basso di quella temperatura lì magari fa un giorno e domani se non sbaglio hanno messo 9 gradi la minima ma si parla di un paio d'ore la mattina e generalmente comunque non va così basso il problema è che qui le case non hanno isolamenti e non c'è il riscaldamento per cui se hai 14 gradi fuori un paio d'ore dopo hai 14 gradi dentro che non è proprio bellissimo però alla fine sono poche settimane l'anno per cui ti metti la doppia maglia c'hai un po' lo scaldino elettrico e via vabbè paesi che vai usanze che trovi ti ci abitui da quelli una domanda riguardante il discorso della Cina perché io immagino che quando tu sei andato a vivere a Hong Kong c'era una situazione che era politicamente diversa quindi adesso sarà cambiata un pochettino non so quanto non so in che maniera hai avvertito questo cambiamento come sta cambiando insomma anche vedendo dai telegiornali con tutto quello che è successo in questi mesi con le sommosse popolari insomma c'è un po' di trambusto tu come la interpreti queste cose c'è stato allora un minimo di storia geopolitica Hong Kong era sotto la colonia inglese fino al 97 dal 97 è stato firmato il trattato tra Inghilterra e Cina o tra Regno Unito e Cina per ritornare Hong Kong alla Cina quindi tecnicamente Hong Kong è Cina dal 97 Sì però quando sei arrivato tu era ancora diciamo c'era ancora o mi sbaglio c'era un po' ancora il clima era sempre era sempre così però il clima era un po' migliore ma dal punto di vista poi politico o geopolitico era esattamente uguale ma il clima in generale era un po' migliore di quello che c'è stato un paio diciamo un anno fa più o meno perché un anno fa ci sono state delle proposte neanche legge delle proposte di legge da parte del governo di Hong Kong per andare ad avvicinare alcune alcune aree alla legislazione cinese e la popolazione di Hong Kong ma soprattutto la parte molto giovane della popolazione di Hong Kong ha reagito non proprio a favore diciamo così si era capito un pochettino dalle immagini che abbiamo visto esatto per cui sono associate poi in proteste anche un po' violente hanno fatto un po' di danni per fortuna poi le cose si sono calmate e ora siamo siamo tornati alla normalità covid a parte ma dal punto di vista politico geopolitica diciamo di di ambiente così è tornata un po' la serenità insomma è tornata un po' la serenità senti ma tu adesso hai anche il passaporto cinese come si parla allora tu arrivi e puoi fare il visto da lavoro anzi l'azienda ti deve fare il visto da lavoro chiaramente non puoi farlo te e poi se tu lavori per sette anni continuativi con un visto da lavoro ti danno la residenza permanente non sono sicuro se puoi richiedere anche il passaporto o se ti serve se ti serve qualcos'altro però quantomeno dopo sette anni di lavoro continuativo hai la la residenza permanente che significa che se tu vieni ad Hong Kong almeno una volta ogni due anni mantieni la residenza per cui anche se vieni qui non lavori o non hai non hai problemi puoi andare dentro e fuori come vuoi se vuoi vieni in vacanza ogni paio d'anni viene fatto in giro e stare tranquillo vabbè però tu però tu ormai diciamo ti sei stabilizzato quindi sarai permanente per il momento anche se non ho la residenza permanente perché sono qui da cinque anni me ne mancano ancora due però non ho diciamo che almeno per i prossimi due anni non ho non ho in piano di spostarmi poi poi vedremo però non ho non ho piani né di andare in un altro paese né soprattutto né di ritornare in Italia poi se vuoi ne parliamo questo no infatti parliamone diciamo perché hai hai detto questa cosa che è molto diciamo interessante proprio per il podcast perché questa è l'analisi che volevo fare io perché tu dici non ho proprio intenzione di tornarci cosa hai per escluso non vorrei che le mie parole fossero travisate ovviamente l'Italia è il paese da cui vengo sono legato all'Italia o da mia famiglia in Italia a parte mio zio che è qui ma tutti gli altri sono in Italia ottimo cibo eccetera però se devo fare un'analisi come dicevo prima dal punto di vista lavorativo dal punto di vista politico dal punto di vista economico diciamo che qui secondo me c'è una situazione migliore per cui ora se dovessi pensare di tornare in Italia e andare a lavorare con le condizioni che ci sono in Italia per con la cultura che almeno ripeto per la mia esperienza ho trovato in Italia farei probabilmente probabilmente fatica senza contare che poi quando quando vedi delle realtà diverse non necessariamente migliori ma comunque diverse poi se ci vivi in quella realtà fai fatica poi a riabituarti a condizioni diverse ti faccio un banalissimo esempio qui quando aspetti l'autobus c'è la fila indiana da una a uno e quella viene rispettata per cui anche se ci sono 50 persone vedi 50 persone in fila indiana e se l'autobus è pieno dopo 30 persone non è che la gente inizia ad urlare si aspetta al prossimo autobus stessa cosa per se devi fare la fila per andare al cinema piuttosto che robe di questo tipo è solamente un esempio ma è un è un sistema diverso che magari non è adatto a tutti ma per quanto mi riguarda trovo la disciplina la disciplina non su tutto perché poi non è non è come sempre non c'è non sono tutte rose e fiori però per tante cose secondo me hanno un po' più non so se chiamarlo senso civico o non saprei come definirlo però in effetti in effetti io viaggio viaggiavo adesso siamo a casa tutti viaggiavo normalmente con i mezzi pubblici quindi una cosa del genere anche a me sarebbe piaciuto di vederlo ma purtroppo non c'è cioè l'unica fila che vedi che rispetto è quella per i taxi perché fuori termini o fuori gli aeroporti i taxi per forza così dipendono in fila indiana in testo con i mezzi pubblici anche col covid che è stato un bel disastro insomma questo lo capisco anch'io no io non voglio cioè il fatto che tu sia andato via dall'Italia non deve essere per forza politica di corretto cioè nel senso se uno è andato via uno o più motivi ci saranno stati e l'Italia diciamo tutti che io io dico per primo io che volevo andare via non ci sono mai riuscito per diversi motivi non perché non avessi trovato l'opportunità e lo dico perché l'Italia è il paese più bello del mondo secondo me però è parecchio disastrato cioè dal mio punto di vista e lo posso dire anche in base alle esperienze come dicevi tu quotidiane vai a fare un'analisi del sangue e vedi la calca la gente che non rispetta le pile cioè nelle cose più banali risultiamo spesso un pochettino come devo dire facciamo sempre i furbi ecco questa è una cosa che l'italiano purtroppo l'italiano medio continuerà sempre a fare per cui va bene non essere politico di corrente cioè ci deve stare un motivo o più motivi per cui ha scelto insomma di stare da un'altra parte senti tu adesso che sei in Microsoft ti occupi sempre di application lifecycle management ma cosa fai consulente oppure diciamo sviluppi qualcosa in Microsoft direttamente te lo chiedo perché voglio farti una domanda poi sull'innovazione allora io quando in realtà quando ho iniziato in Microsoft non mi occupavo di DevOps ma mi occupavo di Cloud era un Cloud Solution Architect ora in realtà sono in una posizione un po' strana io sono il mio titolo è DevOps Architect ma il mio team è un team particolare perché io sono a cavallo tra Microsoft e GitHub per cui lavoro con con entrambe le aziende come probabilmente tutti sapranno GitHub è stata acquisita da Microsoft un paio di anni fa ora non ricordo esattamente e quindi ci sono alcuni team incluso incluso il mio che stanno un po' a cavallo tra le due aziende e fanno un po' da ponte quello che faccio io è una cosa estremamente specializzata e siamo solamente in sette in tutto Microsoft e GitHub a fare questo lavoro qui e sostanzialmente mi occupo come dicevo di DevOps ma sono un consulente che è gratuito per il cliente ma lavoro sostanzialmente con clienti molto grandi con clienti enterprise che siano clienti più grandi lato Microsoft o lato GitHub e il mio team aiuta questi clienti nella loro trasformazione agile e DevOps con ovviamente con possibilmente con prodotti Microsoft e GitHub però in generale poi su metodologie processi eccetera eccetera quindi sono una figura un po' strana mica roba da poco insomma essere uno che sta a cavallo tra Microsoft e GitHub e va nell'enterprise a spiegare come fare le cose insomma se ce ne vuole bisogna avere un po' di esperienza non è che può andarci più no questo è molto molto interessante a livello professionale è una bellissima esperienza immagino no la cosa sulla quale volevo arrivare e sulla quale per cui ho chiesto la quale ho chiesto questa cosa era l'innovazione perché io ne parlavo anche forse un'altra puntata in Italia quello che manca secondo me è l'innovazione cioè in Italia non si fa più innovazione una volta quando ho cominciato io ho avuto la fortuna di far parte di gruppi di ricerca e sviluppo quindi facevo un po' di cose interessanti poi con il tempo è diventata solo consulenza una mera consulenza di diciamo costruzione di piattaforme sinti portali eccetera eccetera quindi non c'è più nulla da inventare dal tuo punto di vista invece quello che fate voi là è qualcosa che state ancora inventando state ancora costruendo qualcosa di nuovo diciamo che non stiamo necessariamente inventando qualcosa di nuovo ma io per esempio mi occupo di tutta l'Asia dal punto di vista della mia copertura e stiamo portando idee che possono essere idee innovative almeno per il mercato locale o per il mercato regionale in aziende che sono estremamente generalmente almeno sono estremamente classiche dal punto di vista dello sviluppo piuttosto che delle metodologie e tra l'altro se parliamo di innovazione qui c'è una situazione abbastanza strana se tu guardi per esempio Hong Kong nei telegiornali eccetera vedi tutte le luci sembra una città estremamente tecnologica e su certe cose è una città estremamente tecnologica ma per tante altre cose è una città che è estremamente classica e tradizionale per cui da un lato magari hai una abbiamo una una carta che è tipo quella che hanno a Londra come si chiama non mi ricordo quella che per tutti i sistemi di trasporto eccetera che qui è portata all'estremo perché con quella puoi andare non solamente in giro praticamente con tutti i mezzi di trasporto ma la puoi utilizzare anche per pagamenti fino a una certa somma per acquisire punti delle catene quindi la usi dappertutto e poi tutte le robe sono collegate con le applicazioni mobile qui tra l'altro se non hai almeno tre o quattro cellulari non sei nessuno quindi da quel lato lì da quel lato lì siamo abbastanza molto avanti dal punto di vista tecnologico di integrazione eccetera ma per tante altre cose tipo vai al ristorante e sono con carta e penna e se ti fanno lo scontrino anche perché tanto non è obbligatorio se ti fanno lo scontrino sei fortunato il sistema di delivery chain per esempio della logistica è anche abbastanza così tradizionale quindi sono due mondi che sono sostanzialmente opposti ma che convivono e questo tra l'altro capita abbastanza in tutta l'Asia per quella che è la mia esperienza io a questo punto qui volevo arrivare perché adesso non è detto che Microsoft faccia diciamo ovviamente riguarderà le piattaforme che riguardano Microsoft e tutto quanto però la Cina in generale come nazione è vista ormai come la fabbrica del mondo quindi tutta la tecnologia più innovativa si costruisce in Cina e la Cina costruendo tutta questa tecnologia per conto terzi e poi diventata di fatto probabilmente la nazione più tecnologica e preparata tecnologicamente al mondo quindi io l'immagine che ho come dicevi tu è della sicuramente la Cina ha una storia millenaria e quella non la puoi buttare via perché ce ne mancherebbe altro però diciamo ha questo spirito di innovazione che rispetto agli altri paesi diciamo anche la vecchia cata Europa è un po' più avanti perché qua ormai non ci sta più niente da inventare invece la hanno la tecnologia in mano e inventano cose sempre nuove sì ma anche lì anche per quanto riguarda la Cina c'è sempre questa dicotomia tra estremamente tecnologico ed estremamente tradizionale tu vai io sono stato diverse volte a Pechino per esempio tu vai a Pechino e vedi telecamere 3D robe incredibili ma poi vedi il signore novantenne col triciclo con la balla di paglia dietro in centro a Pechino che non so neanche dove sta andando fantastico è tutto così quindi c'è sempre questa contraposizione questo appunto non è che adesso perché è una città tecnologica il signore non si può portare la balla di fine a casa era ovviamente solo un esempio però ci sono tantissime cose così che dici vabbè perché hanno innovato sulla cosa A e poi hanno lasciato B completamente allo sfascio quindi ma credo sia anche una componente culturale poi sì 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 ma infatti ripeto secondo me la storia non va cancellata in virtù della tecnologia anzi va salvaguardata senti vorrei concludere un po' questa puntata però per concludere questa puntata vorrei un attimo che tu ci dessi il tuo punto di vista per chi diciamo a favore di chi volesse venire un giorno a Hong Kong finita sta pandemia io mi sono scocciato di stare in Italia non mi trovo più in questo paese la mia azienda non mi piace il lavoro qui non mi piace perché venite a Hong Kong scusami perché venite a Hong Kong qual è il vantaggio perché lo consiglieresti ecco innanzitutto fammi fare una premessa qui puoi venire comunque ma hai successo se sei una persona che ha voglia di non solo che ha voglia di lavorare ovviamente ma che ha voglia di 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 lavorare su sodo qui valutano tantissimo il fatto che non che fai il 110% non non il 100% perfetto quindi se sei uno che fa le otto ore e fa casca la penna lascia vedere esatto non è probabilmente la città la città per te diciamo che è molto competitivo quindi c'è bisogno di sì il mercato è molto competitivo il mercato per quanto riguarda l'ambiente Microsoft in generale quindi se se sei una persona che lavora su tecnologie Microsoft hai delle buone possibilità perché qui c'è c'è una mancanza molto grossa di professionisti in ambito Microsoft quindi sicuramente se se sei un professionista in ambito Microsoft e hai delle conoscenze buone qui puoi puoi fare bene non è non è non è facile non è facile comunque trovare trovare a un'azienda che ti sponsorizzi perché come dicevo prima non è che puoi venire e dici vabbè trovo lavoro devi trovare lavoro e trovare un'azienda che sia disposta a sponsorizzarti il visto se c'è la possibilità in realtà di venire qui ed aprire un'azienda per conto tuo ma se apri un'azienda per conto tuo e vuoi autosponsorizzarti il visto si parla di un investimento minimo di tipo 40-50 mila euro per cominciare quindi tanto per mettere i piedi a Hong Kong insomma sì perché devi dire devi dimostrare che hai non solo la capacità di sostenere l'azienda che stai mettendo su ma anche che hai un piano di investimento per l'azienda per cui gli dicono vabbè allora ti faccio il visto da investimento se vuoi un visto da lavoro devi trovare qualcuno che te la faccia e per trovare qualcuno che ti faccia il visto appunto devi dimostrare che non sei una persona che possono trovare qui tranquillamente quindi se se fai se pensi di venire qui a fare il cameriere senza nulla togliere a chi fa il cameriere però non ti prenderanno mai può essere il cameriere più bravo del mondo ma qui di camerieri ce ne sono un milione quindi devi avere già un lavoro specializzato proprio devi essere un professionista o comunque profilo alto una specializzazione tra virgolette certificata quindi aver lavorato nell'ambito per un tot anni o avere dei dei modi per dimostrare che tu sei capace in quello che per cui ti stai proponendo devi essere uno per cui vale la pena accettarti mettiamola così nel senso non c'è qui a Hong Kong va bene puoi venire esatto se ce ne sono altri e poi devi essere preparato anche al fatto che qui non ci sono sindacati non ci sono grosse associazioni o cose di questo tipo se tu performi vai alla grande se domani non performi più grazie arrivederci e se se sei uno residente non è un problema perché poi trovi lavoro domani non è qui trovare lavoro una volta che ci sei non è un problema ma se sei come me per esempio su un visto da lavoro nel momento in cui vieni licenziato te ne torni a casa ah cioè non puoi restare in attesa di trovare un altro lavoro per un po' di tempo devi andare via puoi trovare un altro lavoro ma poi ritornare non puoi restare qui ah cioè se in dieci giorni trovi il lavoro se no torna a casa sì in teoria in quei dieci giorni non potresti neanche trovare il lavoro ma se capita di trovare un po' sotto banco però quella è una cosa da tenere in considerazione perché se ti va male ti va male eh beh sì 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 bisogna bisogna essere diciamo dei veri professionisti e con persone che effettivamente come dicevi tu non hanno intenzione di venire là a vivacchiare cioè lascia da camminare parecchio da correre insomma senti ma il cinese quanto è difficile ma il cinese quanto è difficile da imparare tanto io ci ho provato due volte ci ho provato prima col cinese mandarino che è quello che parlano in Cina che è leggermente più facile e non mi è andata bene ho detto vabbè proviamo con l'altro ho provato con il cantonese che è quello che si parla qui che è un po' più difficile nel difficile è anche un po' più difficile ma è estremamente difficile o magari non sono io portato per impararlo non lo so io non sono riuscito so dire qualche scusami so dire qualche frase qualche parola so dire al tassista portami a prendere il traghetto so ordinare qualcosa al ristorante ma più di quello la spesa la spesa sul mercato la fa la tua compagna insomma abbiamo capito no quello la puoi fare in inglese poi tutte le targhette ovviamente tutto scritto in cinese e in inglese ah ok ok te la cavi così diciamo te la puoi cavare insomma ti puoi sopravvivere senti ma gli italiani quanti ne hai incontrati là? ma non tanti in realtà la comunità italiana non è grandissima ora non so dirti in termini di numeri ma non è non è molto grande e ci sono tantissimi francesi tantissimi inglesi ma gli italiani non ci sono tanti ne ho incontrati alcuni sono rimasti in amicizia con qualcuno però non ho se posso dire la verità non ho non ho degli amici italiani che vedo costantemente o niente di questo tipo vabbè perché di solito gli italiani poi specialmente i napoletani sono sempre dappertutto quindi io da buon napoletano sai mi aspetto sempre di andare se vengo a Hong Kong sentire qualcuno che parla napoletano all'angolo di strada insomma ogni tanto magari qualcuno passi per strada senti parlare qualcuno italiano ma capita non molto spesso la più grossa comunità per quanto riguarda i non cinesi sono gli inglesi e i francesi ce ne sono tantissimi ok va bene allora io intanto ti ringrazio per tutto questo tempo che ci hai dedicato per parlare insomma della tua situazione professionale del paese dove ti sei trasferito e dare qualche consiglio magari a chi vorrà un giorno trasferirsi a Hong Kong perché passati il lockdown decide che l'Italia non gli piace più e noi se diciamo sicuramente ci risentiremo per altri argomenti tecnici stavolta altri podcast tecnici perché non te la scansi insomma e intanto ti ringrazio moltissimo e ti saluto di nuovo grazie Davide figurati piacere mio ciao a tutti alla prossima ciao a tutti grazie a tutti Grazie.